Santa Lucia, oggi c'è altro da guardare. Colonnine sono sorte lungo i barciacchi. Dalla macchina vi si innesta una spina. Sono i primi esperimenti dell'autotelefono inventato da Mario Iovine e da Angelo Maiello. Un apparecchio che permette di chiamare da qualunque punto della strada. Chiamare, ma non essere chiamati. Da questo ricevitore udiamo soltanto le voci che vogliamo, le voci gradite. A presto, avrà detto l'interpellato dall'altra estremità del filo. Sì, caro. Ti raggiungo in quarta. E mai promessa di donna sarà stata più sincera.